Terza vittoria nelle ultime quattro partite per la città di Verbania che al Pedrolli supera per 3-0 le scuole cristiane. Passo un minuto e la squadra di casa è già in vantaggio. Cross col contagiri di Ottina per la terza di Calloni che sblocca subito la situazione. Al quinto il punteggio già sul 2-0 con Tiboni che fa partire un tiro imparabile per il portiere ospite. Ancora Verbania al ventesimo, Tiboni allarga per Calloni che cerca di servire la corrente asilo che viene però anticipato al momento della battuta. Al trentottesimo fallo di Diaz su Gili, il signor Gallese di Torino non ha dubbi ed espelle il centrocampista bianco cerchiato. Nella ripresa dopo 30 secondi Marchese prova a riaprire la partita ma il suo tiro dal limite termina sul fondo. Al nono arriva il 3-0 del città di Verbania con un super gol di Calloni che imbeccato da Tiboni prima salta il suo avversario diretto e poi fa partire un diagonale che termina in rete. Al quarto d'ora asilo in venta per Agliata che a tutto e per tutto con Bernardo vede respingere la propria conclusione dal portiere ospite. Poco dopo, delta dei 20 metri di Geminaldi, Carli risponde presente alla mezz'ora, continua lo show della linea verde del città di Verbania. Barone classe 2001 premia l'inserimento del 97 Agliata. Ancora una volta Bernardo dice di no al centrocampista bianco cerchiato. Nell'ultimo quarto d'ora non succede più nulla, Alpedroli termina 3-0 per il città di Verbania.